Ciao creatura, io sono Eka Desbendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gozai ASMI. Come avrei detto dal titolo e anche come avrei visto, questa sera mangerò questa pizza che ho fatto io a mano, in casa, con quello che avevo in casa, nel frigo, ovvero pomodoro, mozzarella, viuste e zucchine. Bella e buona, ho cercato di farla un po' croccante sotto, così era molto bsmr, poi berrò la sheps, sheps, sheps. Mi vado già a versare un po'. E' sheps al limone, l'inconfondibile limone. Bella casata, quindi già ho rotto libero la pizza, andrò a mangiarla con le mani, quindi... Ok, poi vi ho chiesto su Instagram, dato che ho chiesto se vi piacciono di più i mukbang ASMR dove si parla o dove si tace, hanno votato per la maggior parte e parlato, però non ho un argomento adesso di cui parlare e non ho roleplay. Quindi, quindi, vi ho chiesto delle domande che possono essere ahimai, o curiosità, o domande no sense, domande di tutti i tipi. Così, oltre a mangiare, anche risponderò alle domande. Speriamo che me ne abbiate fatte abbastanza. E ho pochi. Allora, intanto andiamo a dare l'assaggio. E' bollente. Guarda! E' buonissima. E' buonissima. E' buonissima. E' buonissima. E' buonissima. Ho una fame è. Lo so che dovrei mangiare più piano ma ho famissima. Guarda com'è lievitata bene. ... Hai visto che brava Un po' crocantino sì Non è molto croccante ma nel compenso si scioglie in bocca Sì nel compenso come si dice Ma si scioglie in bocca ecco diciamo sì Ti è venuta voglia di pizza E' un po' crocantino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono iper mega affamata perché in questi giorni non ho potuto mangiare tanto perché mi è tornata l'accolite e ogni roba che mangiavo mi faceva mal di pancia e quindi ho detto no. Già sono magra, sono sotto peso e non posso mangiare niente, ero tipo super demoralizzato. Infortunatamente mi è durato solo una settimana e ho già perso chilo, però adesso li riprenderò. Ha chiuso, ho messo una fatica a prenderlo e in una settimana di colite mi aveva perso tutto. Qualcuno sicuramente avrebbe stato beato a te ma no, fidatevi, non è così. Grazie. Lo faccio tanto suono. Cioè, senti più avvicinato a rifacassino? Cioè, senti più avvicinato a rifacassino? Sì, senti più avvicinato. Non so se riuscirò a mangiarla tutta. Perché ho perso un po'... Diciamo che quando non mangi per un po' ti si stringe un po' lo stomaco e quindi devo riapituarmi, ecco. un po' di verità... Mh, sono canti. Grunzi... E quel microfono? Dicevo quel microfono che ho appena scattuto la tua cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un caldo assurdo. Grazie a tutti. 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 Fa tutto. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti.